A otto mesi dalla valanga killer che distrusse l'hotel Ricopiano di Farindola, causando la morte di 29 persone, il dolore è ancora grande fra i parenti delle vittime. Un dolore che resterà per sempre e che si rinnova giorno dopo giorno in attesa di capire cosa accadde quel maledetto 18 gennaio e se è per colpa di qualcuno. E mentre si aspetta che le istituzioni inizino la pulizia dell'aria attorno all'hotel, noi ascoltiamo il dolore del papà di una delle persone tragicamente scomparse. L'inverno sta arrivando, qua tra poco riscenderà la nera, qua riscenderà la valanga prima di come è riscesa, qua farà tutto un macello. Chiediamo alle forze politiche, alla regione, al governo, a tutti quanti di far bonificare, di pulire tutto, di ridarci le cose preziose dei nostri figli. Vogliamo fare tutto silenzioso, però siamo stanchi, siamo stufi di questa beffa. Ci hanno preso che le nostre vittime sono di serie B o che si vergognassero tutti. Grazie. 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 Grazie.